Lucio Tiozzo del Partito Democratico con un'interrogazione vuole sollevare una questione riguardante l'accesso dei cittadini all'ufficio anagrafe di Chioggia. A causa delle restrizioni imposte dalle norme anti-covid è stato introdotto un sistema di accesso su prenotazione. Ora le restrizioni legate alla pandemia sembrano essere ormai superate e molte attività e uffici pubblici hanno ripreso le normali operazioni offrendo ai cittadini l'accesso senza bisogno di prenotazione. L'ufficio anagrafe del Comune di Chioggia è un servizio di fondamentale importanza per i cittadini e come tale dovrebbe essere efficiente e accessibile e prosegue. Il consigliere propone quindi di mantenere il sistema di prenotazione per coloro che preferiscono pianificare in anticipo la propria visita ma allo stesso tempo garantire l'accesso libero a tutti i cittadini durante gli orari di apertura dell'ufficio. In tal modo chi necessita di un supporto immediato che non ha la possibilità di prenotare in anticipo avrebbe comunque la possibilità di recarsi presso l'ufficio anagrafe senza ostacoli. Tiozzo conclude affermando che l'accesso libero all'ufficio anagrafe rappresenterebbe un segnale di apertura e vicinanza dell'amministrazione comunale verso i cittadini consentendo a tutti di svolgere le proprie pratiche anagrafiche in modo tempestivo ed efficiente. Passa all'Indiga a trascorrere una pausa in relax e vista mare. All'Indiga troverai dell'ottimo gelato artigianale, gusti tradizionali e novità per deliziare il tuo palato. Indiga a sottomarina ti aspetta?